Per i Terramani il primo maggio non è una giornata legata solamente alla festa dei lavoratori ma anche alle virtù. Un piatto semplice ma molto gustoso divenuto negli anni piatto essenziale della festa per i Terramani e non solo. Un appuntamento che si rinnova ogni anno nella sua attualità e nel sapore originale derivante dalla miscela di diversi ingredienti la cui preparazione richiede tempi lunghissimi perché cotti quasi tutti separatamente prima di essere mescolati in modo tale che il gusto di nessun componente emerga in modo particolare. Sempre e soprattutto quest'anno virtù che coincide con la ripartenza della nostra attività diciamo con l'augurio che questo sia di buon auspicio e si continui a lavorare come diciamo si è cominciato a fare. Questo è un piatto che appartiene a questa città, appartiene a questa comunità in giro c'è tanto fermento su questo piatto però diciamo Terram ha una sua storia una storia fatta di condivisione, fatta di solidarietà, di scambi, di generosità, di orti è un piatto che ha una storia incredibile. Era uso mettere tutti i rimasugli dell'inverno perché una volta si conservava tutto nelle maglie, nelle estive, dentro le case, per lo meno i prodotti alimentari e chiaramente si coglieva l'occasione con il primo giorno della primavera perché per i condadini il primo di maggio era il primo giorno della primavera ma soprattutto per la fioritura dell'orto veniva messo insieme tutti questi rimasugli dell'inverno e tutte queste diciamo primizie della primavera proprio per augurarsi una primavera prosperosa, una stagione prosperosa e così via. Anche quest'anno la famiglia dei ristoratori Schillaci con l'aiuto del comune di Terramo e dell'assessorato alle politiche sociali hanno deciso di donare 50 buoni pasto tra cui anche proprio le virtù a chi è in difficoltà. Noi da un po' di tempo, considerata la crisi ma considerata il significato delle virtù perché le virtù significa condivisione io che ho visto da bambino esercitare questa funzione da parte delle famiglie più importanti verso le famiglie diciamo meno fortunate c'era appunto questo scambio, questa donazione delle virtù ed era una grande festa.